laudentur jesus et maria amici ben tornati ben ritrovati a questa nuova puntata del sicuramente lunghissimissimissimo ciclo di catechesi dedicata al mistero di giuda vorrei scoraggiare gli ascoltatori ma vedo che il libro è di circa 700 pagine e siamo soltanto a pagina 18 la terza puntata quindi facendo un po di conti 300 puntate che chi lo sa insomma di questo andiamo avanti qualche anno appresso a giuda purtroppo l'argomento è complesso e purtroppo anche un po diciamo scabroso non in senso stretto qualche passaggio del genere anche se non molto explicit però insomma è abbastanza impegnativo ora abbiamo questo wow nuovo capitolo che sto dando un'occhiata diciamo che 10 pagine se le dovremmo fare oggi se riesco a leggerlo tutto proviamo a fare una lettura commentata perché una lettura di 10 pagine diventerebbe estremamente prolissa e fastidiosa anche se cercherò di leggere ovviamente in un modo tale da aiutare chi segue chi ascolta a mantenere destra l'attenzione ci provo il capitolo si intitola gesù lo istruisce dopo avere ammaestrato nel tempio vedo gesù che avendo al fianco giuda penetra nel recinto del tempio e dopo aver superato la prima terrazza o scaglione se piace più dirla così si ferma in un luogo porticato che costeggia un ampio cortile lastricato con marmi di diverso colore il luogo è molto bello e affollato gesù si guarda intorno e vede un posto che gli piace ma prima di dirigersi adesso dice a giuda chiamami il magistrato del luogo devo farmi riconoscere a ciò non si dica che manco alle consuetudini e al rispetto maestro tu sei al di sopra delle consuetudini né alcuno più di te ha diritto di parlare nella casa di dio tu suo messia dice giuda io lo so tu lo sai ma essi non lo sanno io sono venuto non per scandalizzare né per insegnare a violare non solo la legge ma anche le consuetudini anzi sono venuto proprio per insegnare rispetto umiltà e obbedienza e per levare gli scandali perciò voglio chiedere di poter parlare in nome di dio facendomi riconoscere degno di farlo dal magistrato del luogo l'altra volta non lo facesti obietta giuda infatti gesù aveva scacciato i mercanti dal tempio in forza della sua della sua mesta divina di figlio del padre e gesù risponde l'altra volta mi arse lo zelo della casa di dio profanata da troppe cose l'altra volta ero il figlio del padre l'erede che in nome del padre e per amore della mia casa agiva nella sua mesta alla quale magistrati e sacerdoti sono inferiori ora sono il maestro di israele e insegno di israele anche questo e poi giuda credi tu che il discepolo sia da più del maestro no gesù e tu chi sei e chi sono io tu il maestro io il discepolo e allora se riconosci così essere le cose perché vuoi insegnare al maestro va e ubbidisci io ubbidisco al padre mio tu ubbidisci al maestro tuo condizione prima del figlio di dio ubbidire senza discutere pensando che il padre non può che dare ordini santi condizione prima del discepolo ubbidire al maestro pensando che il maestro sa e non può dare che ordini giusti è vero perdona ubbidisco perdono vai e giuda senti ancora una cosa ricordati questo ricordatelo sempre in futuro di ubbidire? sì no ricorda che io fui col tempio rispettoso e umile col tempio ossia con le caste potenti va piccola sosta Gesù ubbidisce al padre che non può dare che ordini santi giuda ubbidisce a Gesù che è il maestro che non può dare che ordini giusti ecco attenzione perché se andiamo a scalare bisogna sempre fare attenzione e colgo proprio l'occasione dal vangelo di oggi un nuovo sordo è una sorprendente dio incidenza c'era proprio quel passaggio del vangelo dove Gesù dice non chiamate nessuno maestro non chiamate nessuno padre non fatevi chiamare maestri ecco ovviamente la spiegazione di quel brano è uno solo è il maestro è lui quindi un maestro con la M minuscola va ascoltato ed obbedito nella misura in cui trasmette fedelmente l'insegnamento del maestro con la M maiuscola ecco perché qualora questo non dovesse accadere si deve obbedire al maestro con la M minuscola punto interrogativo ecco qui si apre il campo spinoso spinosissimo della virtù meravigliosa dell'ubbedienza ma che va rettamente compresa e anche è ancora più rettamente vissuta perché altrimenti nel nome dell'ubbedienza si va a giustificare la qualunque e questo non si può e non si deve va bene abbiamo fatto il pit stop adesso proseguiamo la lettura scusate questi aggeggi giuda lo guarda pensosamente interrogativamente ma non osa chiedere altro e se ne va meditabondo torna con un paludato personaggio ecco maestro il magistrato la pace sia con te io chiedo di insegnare fra i rabbini di israele ad israele sei tu rabbi lo sono e quale fu il tuo maestro risposta di gesù lo spirito di dio che mi parla con la sua sapienza e che mi illumina di luce ogni parola dei testi santi sei da più di hillel tu che senza maestro dici di sapere ogni dottrina come può uno formarsi se non via chi lo forma risponde gesù come si formò davide pastorello ignoto divenuto irrepotente e sapiente per volere del signore il tuo nome gesù di giuseppe di giacobbe della stirpe di davide e di maria di gioacchino della stirpe di davide e di anna di aronne maria la vergine sposata nel tempio perché orfana dal sommo sacerdote secondo la legge di israele chi lo prova ancora qui devono esservi le viti che si ricordano del fatto e che furono coetane di zaccaria della classe di abbia il mio parente interrogali se dubiti della mia sincerità ti credo ma chi mi prova che tu sia capace di insegnare ascoltami e giudicherai tu stesso sei libero di farlo ma non sei nazareno? sono nato a betlemme di giuda al tempo del censo ordinato da cesare proscritti per ordini ingiusti i figli di davide sono dovunque ma la stirpe è di giude eh sai i farisei tutta la giudea per la galilea lo so ma rassicurati a betlemme vidi la luce a betlemme di efrat da cui viene la mia stirpe e se ora vivo in ganilea non è che perché si compie il segnato il magistrato si allontana di qualche metro accorrendo dove lo chiamano giuda chiede perché non è detto che sei il messia gesù risponde le mie parole lo diranno quale è il segnato che si deve compiere chiede sempre giuda la riunione di tutto israele sotto l'insegnamento della parola del cristo io sono il pastore di cui parlano i profeti e vengo a radunare le pecore di ogni regione vengo a curare le malate a mettere sul pascolo buono le erranti non vi è per me giudea o galilea decapoli o idumea vi è solo una cosa l'amore che guarda con un unico occhio e unisce in un unico abbraccio per salvare Gesù è ispirato pare sprigioni raggi tanto è sorridente al suo sogno giuda lo guarda ammirato della gente curiosa si è avvicinata ai due la cui diversa imponenza attira e colpisce Gesù abbassa lo sguardo sorride a questa piccola folla col suo sorriso la cui dolcezza nessun pittore potrà mai rendere e nessun credente che non lo abbia visto può immaginare e dice venite se vi sprona desiderio di parole eterna si dirige sotto un arco del portico e addossato ad una colonna comincia a parlare prende lo spunto dal fatto del mattino stamane entrando in Sion ho visto che per pochi denari due figli di Abramo erano pronti ad uccidersi per chi non lo ricordasse o per chi non avesse ascoltato le puntate precedenti questo era proprio l'episodio affrontato la volta scorsa nella puntata precedente nel nome di Dio avrei potuto maledirli poiché Dio dice non ucciderai e dice anche che chi non lo ubbidisce nella sua legge sarà maledetto ma ho avuto pietà della loro ignoranza allo spirito della legge ed ho solo impedito l'omicidio per dare loro modo di pentirsi conoscere Dio servirgli un'obbedienza amando non solo chi li ama ma anche chi è loro nemico sì Israele un giorno nuovo sorge per te e anche più luminoso si fa il precetto d'amore comincia forse l'anno col nebbioso etanim oppure con il triste casleu dalle giornate più brevi di un sogno e dalle notti lunghe come un malanno attenzione che per chi non lo sapesse casleu è il mese di dicembre no esso ha inizio col fiorito solare allegro Nisam Nisam è il mese di aprile che è il primo mese dell'anno secondo il calendario ebraico mentre l'ultimo mese dell'anno che è marzo è il mese di Adar quindi esso inizia col fiorito solare allegro Nisam in cui tutto ride e il cuore dell'uomo anche fosse il più povero e triste si apre alla speranza perché viene l'estate le viade il sole le frutta dolce è il dormire anche su un prato in fiore con le stelle per l'ucerna facile il nutrirsi perché ogni zolla porta erba o frutto per la fame dell'uomo ecco o Israele è finito l'inverno tempo di attesa ora è la gioia della promessa che si compie il pane e il vino P e V maiuscola stanno per essere pronti alla tua fame il sole S maiuscola è fra te tutto a questo sole S maiuscola prende più ampio dolce respiro anche il precetto della nostra legge il primo il più santo dei precetti santi ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo nella relativa luce che fin qui ti fu concessa ti fu detto non avresti potuto fare di più perché su te ancora pesava il corruccio di Dio per la colpa di disamore di Adamo ti fu detto ama coloro che ti amano e odia il tuo nemico e nemico ti era non solo chi varcava i tuoi patri di confini ma anche chi ti aveva mancato privatamente o che ti pareva avesse mancato onde l'odio covava in tutti i cuori poiché quale mai quell'uomo che volutamente o senza volere non fa offesa al fratello e quale quello che giunge a vecchiezza senza essere offeso io vi dico amate anche chi vi offende fatelo pensando che Adamo e ogni uomo per lui è prevaricatore verso Dio ne vi è alcuna che possa dire io non ho offeso Dio eppure Dio perdona non una ma dieci e dieci volte perdona ma mille e diecimila volte perdona e ne è prova il sussistere dell'uomo sulla terra perdonate dunque come Dio perdona e se non lo potete fare per amore verso il fratello che vi ha nuociuto fatelo per amore di Dio che vi da pane e vita che vi tutela nei bisogni della terra ed ha predisposto ogni evento per procurarvi l'eterna pace sul suo seno questa è la legge nuova la legge della primavera di Dio del tempo fiorito della grazia venuta fra gli uomini del tempo che vi darà il frutto senza pari che vi aprirà le porte del cielo la voce che parlava nell'eserto non si ode ma muta non è essa parla ancora Dio per Israele e parla ancora ad ogni retto israelita nel cuore e dice dice dopo avervi insegnato a far penitenza per preparare le vie al Signore che viene e ad avere carità dando il superfluo a chi non ha neppure necessario e ad avere onestà non estorcendo e non vessando vi dice l'agnello di Dio colui che toglie i peccati del mondo colui che battezzerà col fuoco dello Spirito Santo è fra voi egli pulirà la sua aia raccoglierà il suo frumento sappiate conoscere colui che il precursore vi indica le sue sofferenze operano verso Dio per darvi luce vedete si aprono i vostri occhi spirituali conoscerete la luce che viene io raccolgo la voce del profeta che annuncia il Messia e col potere che mi viene dal Padre la amplifico e vi unisco il mio potere e vi chiamo alla verità della legge preparate i vostri cuori alla grazia della redenzione vicina il Redentore è fra voi beati quelli che saranno degni di essere redenti perché avranno avuto buona volontà la pace sia con voi seguirà adesso un dialogo anche Gesù al termine delle prediche dava la possibilità di interloquire a quanto pare lo sentiremo subito visto questa è una predica siamo agli inizi del ministero pubblico di Gesù conclude facendo riferimento a San Giovanni Battista che dapprima ha preparato il popolo alla penitenza e poi ha esplicitamente annunciato in Gesù la presenza dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo comincia subito col mettere le mani avanti quindi col manifestare la sua intenzione di dilatare perfezionare meglio quindi portare a pieno compimento completare quanto detto nella legge antica che era un inizio destinato appunto ad essere perfezionato un inizio proporzionato alla condizione dell'uomo decaduto e non ancora redento da Cristo fa velati riferimenti all'eucaristia pane e vino e ha la sua autoidentificazione con il sole con la S maiuscola la luce che lui porta no? e concludo dicendo una cosa molto importante che negli scritti di Maria Valtorta è proprio più che ricorrente beati quelli che saranno degni di essere redenti perché avranno avuto buona volontà la volontà buona la nostra unica grande risorsa se la volontà è buona si può fare con l'aiuto di Dio ovviamente qualunque cosa se la volontà non è buona pur con tutta la volontà salvifica universale di Dio non si farà niente di buono e adesso ascoltiamo il dibattito post brevissima predica uno chiede sei tu discepolo del Battista che ne parli con tanta venerazione risponde ebbi battesimo da lui sulle rive del Giordano prima della sua prigionia lo venero perché santo egli è agli occhi di Dio in verità vi dico che tra i figli di Abramo non ve ne è uno più grande in grazia di lui dal suo avvento alla sua morte gli occhi di Dio si saranno posati senza moto di sdegno su questo benedetto egli ti ha assicurato del Messia la sua parola che non mente Gesù ha indicato i presenti il Messia già vivente dove quando quando fu l'ora di indicarlo ma Giuda si sente in dovere di dire a destra e a manca il Messia è colui che vi parla io ve lo testifico io che lo conosco gli sono discepolo primo ecco qua lui la gente si scosta intimorita ma Gesù è così dolce che torna ad accostarsi chiedetegli qualche miracolo egli è potente guarisce legge nei cuori risponde ad ogni perché digli tu per me che sono malato l'occhio destro è morto il sinistro già si secca maestro Giuda Gesù che accarezzava una bambinella si volta maestro quest'uomo è quasi cieco vuol vedere gli ho detto che tu puoi io posso perché ha fede hai tu fede uomo io credo nel Dio di Israele vengo qui per gettarmi in Bezzaida ma vi è sempre chi mi precede puoi credere in me se credo nell'angelo della piscina non devo credere a te che il tuo discepolo dice che sei il Messia Gesù sorride si bagna il dito con la saliva e sfiora l'occhio malato che vedi vedo le cose senza la nebbia di prima e l'altro non lo guarisci Gesù sorride di nuovo ripete l'atto sull'occhio cieco che vedi chiede levando il polpastrello dalla valpedra calata ah signore di Israele ci vedo come quando corrivo bambino sui prati te benedetto in eterno l'uomo piange prostrato ai piedi di Gesù va si buono ora per riconoscenza a Dio un levita che è giunto verso la fine del miracolo chiede con che potere fai queste cose tu me lo chiedi pure te lo dico se mi rispondi a una domanda secondo te è più grande un profeta che profetizza il Messia o il Messia stesso che domanda il Messia è più grande è il redentore promesso dall'altissimo allora perché i profeti fecero miracoli con quale potere dice Gesù col potere che Dio loro dava per provare alle folle che Dio era con loro ebbene dice Gesù con lo stesso potere io faccio miracolo Dio è con me io sono con lui io provo alle folle che così è e che il Messia ben può con maggior ragione e misura ciò che potevano i profeti il levita se ne fa pensoso e tutto finisce vorrei far notare qualche cosa prima di andare avanti perché qui il discorso è finito e poi comincia il dialogo fra Gesù e Giuda quindi prima di adentrarci in questo qualcosa sulla sullo stile di Gesù stargli dietro è veramente un'impresa unica al mondo insomma no però proviamo a rifletterci un po' chi lo sa che impariamo da lui un po' di prudenza anche un po' di di perfezione anche un po' di mi viene in mente classe insomma no perché è proprio uno spettacolo da da contemplare una delle bellezze dell'opera proprio vedere queste cose qui no avete visto il se è discepolo del battista hai visto come risponde cioè ebbi battesimo da lui è un grande il più grande fra i figli di Abramo ma ti ha assicurato del Messia lui non dice niente la sua parola che non mente dove quando quando fu l'ora di indicarlo e poi interviene Giuda a proposito a sproposito questo forse lo capiremo dopo vedremo e però vedete come Gesù procede no con questo modus quindi risponde sempre dicendo il vero ma non dicendo subito tutto l'oculatezza e l'attenzione nelle nostre parole guardate che non mancare nel parlare è una delle cose in assoluto più difficili che esiste al mondo bisogna essere veramente perfettissimi per una cosa del genere io sicuramente manco infinitamente nel parlare sperando che nel mio parlare specialmente quando in questi frangenti il Signore si degni nonostante come dire lo strumento di parlare al cuore delle persone di dire qualcosa di utile di costruttivo per la crescita per la conversione eccetera no santa Teresa diceva una cosa nel molto parlare non manca mai il peccato è importante imparare a parlare bene prudentemente veracemente senza dire quello che non è necessario eccetera 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 volevo farle notare queste cose no seconda cosa da notare quando gli chiedono il miracolo dice miracolo quel miracolo io posso per chi ha fede questo ce lo dicono i Vangeli la fede puoi credere in me sappiamo bene che Gesù avrebbe detto tutto è possibile per chi ha fede parla della fede che è esposta alle montagne ecco perché la fede è sempre è la prima delle virtute logali e dobbiamo coltivarla anzitutto come fede formata quindi padroneggiando bene le vendità di fede ma anche come fede fiduciale quindi capacità di di credere di dare al Signore la possibilità di agire e di operare nella nostra esistenza miracoli ecco questo era un cieco reale noi abbiamo tante necessità spirituali di essere guariti e ci guariranno nella misura in cui abbiamo fede in Gesù terza cosa il contatto vedete come Gesù ordinariamente faceva miracoli attraverso il contatto sacramentale il dito con la saliva tra l'altro è un gesto che nel battesimo si è conservato anzi in vetus sordo c'era proprio specificato di toccare il dito con la saliva immaginate oggi salutisti e igienisti come sono diventati è di proprio toccare le orecchie e il naso del battezzando e fatà che significa apriti il ricordo della guarigione del sordo muto non l'orecchie e il naso attenzione l'orecchie e la bocca quindi immaginate con il dito intinto nella saliva siamo passati da questo a non si può nominare però ad alcune cose successe nelle nostre chiese poco meno di 4 anni fa no di 3 anni fa no di 4 anni fa segni dei tempi va bene adesso andiamo al all'ultimissima cosa all'ultimissima cosa anche come conduce il dialogo con il levita e anche qui vedete come Gesù non non si lascia mai incastrare anche il dialogo che aveva condotto prima con con col magistrato cosiddetto no è un grandissimo quindi quelli che arrivano provocatori eccetera eccetera lui li mette sempre in riga ovviamente con una classe immensa e anche con una carità immensa vorrei far notare anche le parole che Gesù ha detto a Giuda io non devo insegnare a trasgredire né la legge né le consedute né a dare scandalo questo è venuto a toglierle queste cose non ad avallarle no va bene proseguo ancora Gesù e Giuda che dopo aver pregato nel luogo più vicino al santo concesso agli israeli di maschi escono dal tempio Giuda vorrebbe rimanere con Gesù ma questo desiderio trova l'opposizione del maestro Giuda io desidero di rimanere solo nelle ore notturne nella notte il mio spirito trae il suo nutrimento dal padre orazione meditazione solitudine mi sono più necessari del nutrimento materiale colui che vuole vivere per lo spirito e portare altri a vivere la stessa vita deve posporre la carne direi quasi ucciderla nelle sue prepotenze per dare tutte le sue cure allo spirito tutti sai Giuda anche tu se vuoi essere veramente di Dio ossia del sopranaturale Giuda obietta ma noi siamo ancora della terra maestro come possiamo trascurare la carne dando tutte le cure allo spirito non è ciò che dici in antitesi con il comando di Dio non ucciderai in questo non è anche compreso il non uccidersi se la vita è dono di Dio dobbiamo amarla o meno risponderò a te come non risponderei ad un semplice al quale basta far alzare lo sguardo dell'animo della mente a sfere sopranaturale per portarcelo con noi in volo nel regno dello spirito tu non sei un semplice ti sei formato in ambienti che ti hanno affinato ma che anche ti hanno inquinato con le loro sottigliezze e con le loro dottrine ricordi Salomone Giuda era sapiente il più sapiente di quei tempi ricordi che disse dopo aver conosciuto tutto il sapere vanità delle vanità tutto è vanità temere Dio osservare i suoi comandamenti questo è tutto per l'uomo ora io ti dico che occorre saper prendere dai cibi nutrimento ma non veleno e se un cibo lo si comprende a noi nocivo perché vi sono in noi reazioni per cui quel cibo è nefasto essendo più forte dei nostri umori buoni che lo potrebbero nevralizzare occorre non prendere più di quel cibo anche se appetito sul gusto meglio semplice pane acqua di fronte ai piatti complicati della mensa del re in cui sono droghe che turbano e avvelennano che devo lasciare maestro tutto quello che sai che ti turba perché Dio è pace e se ti vuoi mettere sul sentiero di Dio devi sgombrare la tua mente il tuo cuore e la tua carne da tutto ciò che pace non è e porta con sé turbamento so che è difficile di formare se stesso ma io sono qui per aiutarti a farlo sono qui per aiutare l'uomo a tornare figlio di Dio a ricrearsi come per una seconda creazione un'autogenesi voluta dallo stesso ma lascia che io ti rispondi da quanto chiedevi a ciò tu non dica che sei rimasto in errore per mia colpa è vero che l'uccider sia uguale all'uccidere sia la propria o l'altrui la vita è dono di Dio e solo a Dio che l'ha data è deferito il potere di toglierla chi si uccide confessa la sua superbia e la superbia è odiata da Dio la superbia confessa io direi la disperazione e chi ha la disperazione se non superbia considera Giuda perché uno dispera o perché le sventure si accaniscono su di lui e lui vuole da se vincerle e non riesce a tanto oppure perché è colpevole e si giudica non perdonabile da Dio nel primo e nel secondo caso non è forse la superbia che regna quell'uomo che vuole fare da sé non ha più l'umiltà di tendere la mano al padre e dirgli io non posso ma tu puoi aiutami perché da te io tutto spero e attendo quell'altro uomo che dice Dio non mi può perdonare lo dice perché misurando Dio su se stesso sa che uno offeso come egli ha offeso non potrebbe perdonarlo ossia è superbi anche qui l'umile compatisce e perdona anche se soffre dell'offesa ricevuta il superbo non perdona è superbo anche perché non sa chinare la fronte a dire padre ho peccato perdona il tuo povero figlio colpevole ma non sai Giuda che tutto sarà perdonato dal padre se sarà chiesto perdono con cuore sincero e contrito umile e volenteroso di risurrezione nel bene ma certi delitti non vanno perdonati obietta Giuda non possono essere perdonati tu lo dici è vero sarà perché così l'uomo vorrà ma in verità o in verità ti dico che anche dopo il delitto dei delitti se il colpevole corresse ai piedi del padre si chiama padre per questo o Giuda ed è padre di perfezione infinita e piangendo lo supplicasse di perdonarlo offrendosi all'espiazione ma senza disperazione il padre gli darebbe modo di espiare per meditarsi il perdone e salvarsi lo spirito alt due cose fondamentalissime primo il turbamento tutto quello che sai che ti turba lo devi lasciare perché Dio è pace e se ti vuoi mettere sul sentiero di Dio devi sgombrare la tua mente il tuo cuore e la tua carne da tutto ciò che pace non è e porta con sé turbamento in innumerevoli circostanze ho avuto modo di parlare di questo aspetto quando qualcosa ci turba dobbiamo fare un 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 uno stop un break per andare a verificare il turbamento allora per esempio cominciamo da quelli che non sono veri turbamenti cosa si dice il Vangelo riguardo Maria Santissima l'angelo porta il saluto a queste parole la fu molto turbata e si domandava molto addirittura che senso avesse un tale un tale saluto è chiaro che dinanzi ad una manifestazione così inaspettata di Dio è evidente che uno non può rimanere l'esasso impassibile ma quello non è un turbamento negativo perché dicono i maestri di spirito perché quando un turbamento deriva da un'azione divina inaspettata immediatamente dopo il turbamento segue la base e Maria questa cosa la racconta quando commenta l'episodio dell'annunciazione secondo ci sono i turbamenti che purtroppo non sono segno di un qualche cosa che non viene da Dio ma purtroppo sono invece segno di una nostra o di un nostro malessere interiore il caso tipico è il turbamento da scrupolo la persona che soffre di scrupoli in maniera rilevante sta sempre turbata sempre non sta mai tranquilla invece c'è il turbamento sano che è il richiamo della coscienza quando stai facendo stai pensando stai vivendo qualche cosa che a Dio non piace quindi c'è questo stridore ecco quello bisogna ascoltarlo e assecondarlo poi mi direte discernimento canzone di 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 battisti ecco lo scopriremo solo vivendo non è difficile cioè in certi casi è opportuno chiedere consiglio io me ne accorgo subito quando ho dinanzi un'anima scrupolosa ci sono proprio dei segni evidentissimi il problema degli scrupoli è un problema grosso perché non si esce da questa cosa se non si ascolta qualcuno di esterno che ti indirizzi e che ti dica piantala perché sono scrupoli perché sono a seconda di quei ragionamenti io ho dei casi attuali insomma che recentemente ho conosciuto e mi sono capiti tantissimi casi di confessioni generali reiterati o cose di questo genere quindi abbiamo visto le due eccezioni quindi il turbamento che viene da quella malattia orribile dello spirito che è lo scrupolo e il turbamento che invece viene da dio ecco poi c'è il turbamento ordinario che è quello che deve essere un campanello di allarme che ci mette con le antenne drizzate perché vuol farci capire che dobbiamo troncare con qualcosa che si oppone a dio e la sua volontà e poi c'è il discorso sulla superbia qui chiaramente Gesù sta cominciando subito a dirgli che un giorno potrà essere perdonato vedete che qui Gesù come ogni buon maestro sa bene quello che fa lui conosceva il futuro noi poveri preti facciamo una cosa simile quando parliamo in pubblico quando conosciamo i destinatari delle nostre prediche e in pubblico diciamo qualche cosa che vorrebbe però sollecitare un privato che noi conosciamo e che c'ha bisogno di sentire una certa parola sperando che raccolga perché il rimprovero diretto è sempre un terno all'otto molto difficilmente ascoltabile e attenzione alle condizioni del perdono del colpevole perché questo vale per tutti i peccati non soltanto per quello grosso quanto una casa che avrebbe fatto Giuda uno piangendo lo supplicasse di perdonarlo il perdono di Dio deve essere implorato cioè non è scontato cioè ha fatto sto peccato ha fatto un altro che gli fa è tornato a confessare e poi è finito ma quanto mai il pentimento piangendo lo implorasse lo supplicasse di perdonarlo la liturgia se le mette in bocca queste cose signore pietà Cristo pietà signore pietà è chiaro che le ripetiamo a pappagallo queste cose qui purtroppo sempre così va a pappagalli ma che cosa sono queste signore abbi pietà di me che sono peccatore pubblicano no oppure signore abbi pietà di me guarisci mi so cieco quindi è un'implorazione una supplica non è scontato il perdono di Dio né tanto o meno è una cosa in cui nessuno ha nessun diritto a essere perdonato il diritto che noi abbiamo quando siamo peccatori non è di essere perdonato è di andare all'imperno quello è il diritto che ci abbiamo stupidi come siamo basta? no non basta offrendosi all'espiazione ai 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 tu chiedi il perdono e poi farai penitenza per quello che hai fatto la piccola penitenza che ti darà oggi il confessore è che le penitenze di oggi fanno ridere le galline ammesso che le galline possano ridere ma se ti troverai un confessore eventualmente che non ti dia una penitenza da far ridere le galline oppure gliela chiedi e se così non è la fai da solo non c'è problema se è la visione del ciuccio no? la fai da solo per far un digiuno non c'è bisogno che succeda chissà che cosa l'hai fatta grossa fai una penitenza adeguata pensaci tu ok? perché piangere e supplicare e offrirsi all'espiazione sono le condizioni per meritarsi il perdono e salvarsi lo spirito proseguo allora tu dici dice Giuda che gli uomini che la Sacra Scrittura cita e che si uccisero fecero male non è lecito fare violenza ad alcuno e neppure a se stesso fecero male nella loro relativa conoscenza del bene avranno in certi casi avuto ancora misericordia da Dio ma da quando il Verbo avrà chiarito ogni verità e dato forza agli spiriti col suo spirito da allora non sarà più perdonato a chi muore in disperazione né nell'attimo del particolare giudizio né dopo secoli di Genna nel giudizio finale né mai durezza di Dio questa no giustizia Dio dirà tu hai giudicato sentite tu creatura dotata di ragione e di soprannaturale scienza creata libera da me di seguire il sentiero da te scelto e hai detto Dio non mi perdona sono separato per sempre da Lui giudico che devo di mio applicarmi giustizia per il mio delitto esco dalla vita per fuggire dai rimorsi senza pensare che i rimorsi non ti avrebbero più raggiunto se tu fossi venuto sul mio paterno seno e come hai giudicato abiti io non violento la libertà che ti ho data o l'abbiamo capita o la devo spiegare questa qui questo di questa questa cosa peccato che non esiste la versione digitale di questo testo se no io questa la prendevo e la postavo sul canale telegram almeno almeno lì ecco per dire vogliamo farci un bel regalo una settimana di riflessione su queste parole una settimana tutti i giorni giustizia non durezza giustizia 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 tu hai giudicato tu tu creatura dotata di ragione noi la ragione ce l'abbiamo non per mettercela sotto i piedi oppure per spegnerla per usarla bene hai la ragione e hai anche soprannaturale scienza questo per noi vale per tutti perché noi siamo tutti quanti battezzati e se la soprannaturale scienza l'hai persa colpa tua non colpa di Dio cerca di andarla a ritrovare perché tu l'hai avuta questa cosa in dono creata libera creata libera io non violento la libertà che ti ho data questa cosa mettiamocelo in testa proprio bene se c'è una cosa l'ho detto infinite volte ma lo ricordo io la ripeto fino a quando muoro che Dio non farà mai ma i è violentare la nostra libertà non lo farà mai e nemmeno attenzione rinunciare a giudicarci sulla base del funzionamento dell'intelligenza che lui pretende che noi abbiamo perché c'è la data non siamo ebeti o incapaci di intendere di voler o bambini in questi giorni o in alcuni frangenti ho dovuto sollecitare su alcune questioni la gente va a sentimenti va a passioni o va a ideologie sposa i partiti dico ma non si fa così quando si fa un discernimento su un problema tu devi basarti sui fatti oggettivi non su quello che ti piacerebbe che senti che ti sembra che desideri che ti piacerebbe siamo rovinati altrimenti così rovinati oh am I understood speriamo scusate se mi fermo ma questo è un passaggio fondamentale e guardate che uno dei mali veramente io me ne sto io ci sto facendo caso ma mi vengono certi nervi perché poi delle volte lo vedo anche su di me ahimè è l'abdicazione in certi frangenti della testa generalmente le donne sono ahimè più vulnerabili sotto questo punto di vista salvo le eccezioni ma non fanno eccezioni manco certi maschietti purtroppo ecco allora come hai giudicato abiti e Gesù dice questo dirà l'eterno al suicida pensalo giuda la vita è un dono e va amata ma che dono è dono santo e allora la si ami santamente la vita dura finché la carne regge poi comincia la grande vita l'eterna vita di beatitudine per i giusti di maledizione per i non giusti la vita è scopo o è mezzo qui sta parlando della vita terrena è scopo o è mezzo è mezzo serve per il fine che è l'eternità e allora diamo alla vita quel tanto che le serve per durare e servire lo spirito nella sua conquista continenza della carne in tutti i suoi appetiti in tutti tutti significa quali sono gli appetiti della carne sono due quelli principali la lussuria e la gola che vanno castigati vanno frenati chiaro? tutti e due continenza della mente in tutti i suoi desideri in tutti chi parla la superbia la desiderio dei soldi la parizia il desiderio della gloria del successo sempre il baggiano di oggi i farisei i primi seggi le prime piazze farsi sentire chiamare rabbì tutte segretinate qui cosa sono questi qua? desideri della mente illeciti continenza del cuore in tutte le passioni che sanno di umano ah qui ci vorrebbe un'enciclopedia qui insomma no? c'è enciclopedia attaccamenti malsani desideri malsani intenzioni malsane agire davanti agli uomini per piacere agli uomini per compiacenza per fini umani per interesse buonanotte illimitato invece lo slancio verso le passioni che sono del cielo che passione Gesù gioca no? quindi quando uno ha una bella passione quindi amore di Dio amore del prossimo volontà di servire Dio e prossimo ubbidienza alla parola divina eroismo nel bene e nella virtù io ti ho risposto Giudane sei persuaso? ti basta la spiegazione? sii sempre sincero e chiedi se non sei ancora abbastanza sono qui per essere maestro eh ho compreso e mi basta ma è molto difficile fare ciò che ho compreso tu lo puoi perché sei santo ma io io sono un uomo giovane pieno di vitalità ma sono venuto per gli uomini Giuda non per gli angeli quelli non hanno bisogno di maestro vedono Dio dicono nel suo paradiso non ignorano le passioni degli uomini perché l'intelligenza che è la loro vita li fa cogniti di tutto anche quelli che non sono custodi di un uomo ma spirituali come sono non possono avere che un peccato come lo ebbe uno di loro e con sé trascinò i meno forti nella carità la superbia freccia che deturpò Lucifero il più bello degli arcangeli e ne fece il mostro orripellente dell'abisso non sono venuto per gli angeli i quali dopo la caduta di Lucifero inorridiscono anche solo la larva di un pensiero d'orgoglio d'orgoglio ma sono venuto per gli uomini per fare degli uomini degli angeli io non vorrei più aggiungere di tutti gli uomini pure degli sposati non sono proprio angelissimi simissimi perché la virtù angelica è la virginità però devono comunque essere degli angioletti ok non degli angiolissimi ma degli angioletti si pure quelli che sono sposati pure quelli che non sono preti né frati né suore questo vale per tutti questo qui per fare degli uomini degli angeli l'uomo era la perfezione del creato aveva dell'angelo lo spirito e dell'animale la completa bellezza in tutte le sue parti animali e morali non vi era creatura creatura che le guagliasse era il re della terra come Dio il re del cielo e un giorno quel giorno in cui si sarebbe addormentato l'ultima volta sulla terra sarebbe divenuto re col padre nel cielo capito bene cosa sta dicendo Gesù l'ultimo giorno in cui si sarebbe addormentato l'ultima volta sulla terra non c'è morte non c'è c'è l'ultimo sonno ti svegli anziché sul letto in paradiso ci credete o no satana ha strappato le ali all'angelo uomo e vi ha messo artigli di fiera e brame di immondezza i repeat brame di immondezza ripeti brame di immondezza ripeto brame di immondezza e ne ha fatto un che che ha più nome di uomo demone che di uomo soltanto io voglio cancellare la deturpazione di satana annullare la fame corrotta della carne inquinata rendere le ali all'uomo riportarlo ad essere re coerede del padre e del celeste regno so che l'uomo se vuole volerlo può fare quanto io dico per tornare re e angelo non vi direi cose che non potreste fare non sono uno dei retori che predicano dottrine impossibili ho preso carne per poter sapere per esperienza di carne quali sono le tentazioni dell'uomo commento e ci metto punto purtroppo non è finito il capitolo che era molto lungo vediamo la prossima volta non fa niente però qui bisogna fare l'ultimo pit stop e dovrei sbrigarmi che siamo quasi a un'ora però allora lui è venuto per ridare le ali all'uomo decaduto l'uomo demone deve ridiventare uomo angelo annullare la fama corrotta della carne inquinata e dice so che l'uomo attenzione se vuole volerlo può fare quanto io dico per tornare re e angelo attenzione all'altra parte vuole volerlo perché la nostra volontà prima di seguire Gesù deve volerlo seguire deve fare una scelta ti interessa tornare a diventare ad essere un uomo degno di questo nome il re di te stesso che comandi tu non sei comandato da istinti animaleschi siamo in quaresima no? a che serve il digiuno? io digiuno perché anche se mangiare è una necessità non ho scritto da nessuna parte che devo mangiare come un porco tutti i giorni faccio il digiuno certo non si può fare il digiuno per tutta la vita a meno che il nostro signore non faccia un miracolo ci fa campare soltanto di eucaristia ma ogni tanto sì anche come atto di esercizio comando io cioè lo so che mangiare è una necessità ma mangio ma mangio quando lo dico io e quanto lo dico io e come lo dico io questa è dignità una persona che diventa un buzzicone una balena ha perso la dignità che razza di uomo e di donna è che è una cosa bella una persona un vizioso un lussurioso una lussuriosa ma hai visto un po' vanno in giro adesso ma che razza di donna sei ma che razza di uomo adesso a prescindere anche dalle qualificazioni morali che te ne avevi all'inferno ma chi sei tu ma non ti vergogni per niente ma ti sei visto allo specchio ti sei vista allo specchio le donne sono tante ore davanti allo specchio prega l'orbo ma guardate chi sei vuole volerlo ci interessa passare da uomini demoni a uomini angeli a noi l'ardua risposta e l'estrema sentenza dio vi benedica amici cari la santa vergine protegga laudantur jesus et maria c'è l'orbo c'è l'orbo mi luggage